È tempo di voltare pagina per l'Olimpia agnonese. Dopo la bruciante sconfitta in Coppa contro il Campobasso, si torna sul campo ad allenarsi e migliorare la condizione fisica sotto gli occhi a teni di Mr. Donatelli. I Granata svolgeranno un triangolare con Civitanova e Isernia con lo scopo di perfezionare l'intesa tra i reparti. Per quanto riguarda la squadra ci sono da registrare delle novità. Due ragazzi grazie 96 sono in prova e verranno valutati nei prossimi giorni da Mr. Donatelli e il suo staff. Mentre dopo tanto tempo, caso infortunio, tornerà a calcare il rettangolo verde Pietro Pifano, con grande felicità del mister, che lo vede come uno dei pilastri difensivi del suo collaudato modulo 4-4-2. Ma prima di rivederlo in campo ci vorrà del tempo. Dalla partita di Coppa, come dice lo stesso DS Maurizio Sabelli, sono arrivate notizie positive. La squadra ha giocato bene, fornendo un'ottima prestazione e dando fiducia per un campionato di Serie D ormai alle porte che si preannuncia duro e complicato. Altra notizia alieta è l'intesa del duo d'attacco Saltarin-Gesuele, con quest'ultimo andato in rete contro il Rosso-Bruno, nonostante sia solo al 30% della condizione fisica. La testa è alla prima di campionato, dove al Civitelli è attesa la San Benedettese. E una partenza positiva sarebbe fondamentale per gli altomolisani. Chiudiamo con quest'ultima notizia. La società del presente Melloni per quest'anno sarà affiliata con l'associazione sportiva Roma. Lo staff Lasea lo invierà periodicamente ad agnone tecnici qualificati che osserveranno tutti i ragazzi e i più bravi verranno chiamati nella capitale per partecipare a degli stage con gli altri ragazzi della Roma. Inoltre la società giallorossa ha deciso di ospitare almeno una volta nell'arco dell'anno i ragazzi dell'Olimpia presso lo Stadio Olimpico per assistere a una partita casalinga della Roma di campionato o Coppa Italia gratuitamente.